All'indomani della soluzione in appello dalle accuse di disastro ambientale e truffa degli imputati del processo sulla bonifica di Bagnoli, resta il degrado e il rammarico per aver perso troppi anni e troppi soldi pubblici. Un processo che in termini sociali ed economici è costato circa 100 milioni di euro. Questa la stima approssimativa dei danni se si pensa solo alla mancata vendita dei suoli e al fallimento di Bagnoli Futura. Ma soprattutto se pensiamo alle opportunità di sviluppo andate in fumo per questo territorio. L'osservatorio popolare di Bagnoli Coroio, riconosciuto come interlocutore consultivo e obbligatorio per la bonifica, chiede al più presto un incontro con il sindaco commissario Gaetano Manfredi e con il soggetto attuatore, Invitalia, per riprendere e sbloccare, una volta per tutte, i progetti per il risanamento. Noi sappiamo che i 30 anni di ritardo ci sono e sono evidenti. Le bonifiche non sono state fatte correttamente come da rilievi di Invitalia, quindi del commissariamento che ha seguito però l'incapacità di Bagnoli Futura di assicurare il processo di bonifica e di compierlo e le opere fatte non sono ancora usufruibili oggi. Come osservatorio popolare chiediamo un'interlocuzione con, abbiamo avuto con i subcommissari, la chiediamo al commissario Manfredi, al soggetto attuatore Invitalia, ma soprattutto chiediamo che queste istituzioni rendano conto al territorio, sblocchino le bonifiche da effettuare, le bonifiche a terra, quindi tutte quelle che sono ancora da assegnare, sblocchino le clausole sociali, cioè queste bonifiche devono essere fatte da abitanti, ragazzi, ragazze disoccupati, disoccupate del territorio in primis della città di Napoli in secondo luogo. È l'unica maniera per sbloccare realmente tutto questo territorio.